Eeeh, ciao cari sono Atrix, signori bentornati carissimi nel canale, cari finalmente ci siamo, finalmente posso aprire la bestia che mi sta qua dietro, torno adesso dall'università e l'unico mio tarlo mentale era per l'appunto questo, approfitto cari però prima di iniziare e vederlo insieme, perché io non ho ancora visto chiaramente perché è sigillato, volevo ringraziare tutti voi, ma tutti da primo all'ultimo, chi chiaramente mi segue, chi mi supporta, chi mi dà qualcosa grazie alle donazioni cari e grazie a voi, che tutto è ricavato, l'ho per l'appunto e lo sto investendo per poter fare video sempre migliori a livello chiaramente cari della qualità e quindi i bluietti e quindi la webcam e quindi le luci e quindi il monitor che arriverà presto e quindi cari il computer e quindi la sedia e quindi insomma avete capito, quindi cari io piano piano sto crescendo a livello di attrezzature e questo cari chiaramente è solo merito vostro e io chiaramente ve ne ringrazio. Allora cari la mia idea è questa, ora voi lo capite sto ancora con questa webcam, vi do diciamo uno spoiler, vi dico una cosa che il mio prossimo acquisto sempre a livello di attrezzatura sarà una cazzo di fotocamera fatta bene perché io non posso continuare con questa webcam che seppur essendo comunque la C920 quindi una delle migliori è chiaro cari che non rende come io voglio, infatti così come nel video della sedia anche quello di oggi chiaramente la qualità sarà un po' infima, però cari che bisogna fare? Sarà il mio prossimo acquisto, la mia prossima donation goal e per di sempre punta a prendermi una buona fotocamera perché o la prendo buona oppure è meglio che non la prendo insomma. Quindi cari partiamo subito, ora mia un attimo aggiusto la situazione perché comunque qua devo levare un po' di roba in modo da farvi vedere il più chiaramente possibile l'animale che mi sta qua dietro. Allora cari non so, non so come si può vedere la cosa, io so che io non ci vedo un cazzo perché non mi sono ancora messo gli occhiali, ora cari ancora perdonatemi della qualità da film porno amatoriale però questo c'ho e questo insomma per vedere. Allora coltello cari iniziamo piano piano incide, è chiaramente sigillato in maniera impressionante come giusto che sia quindi aspettate un attimo che provo a capire. E insomma cari possete ben capire che è in momenti come questi e che a me manca Miriana perché l'hai capito molto più brava in queste cose, io in realtà sono completamente negato quindi qua non si apre niente. Oh se fanno progressi sembrerebbe, allora cari in aletta ce l'ho fatta ad aprirla quindi eh no pensavo si aprisse anche l'altra invece aspetta che vado a fare un'incisione, ho rotto spero non qualcosa di fondamentale. Allora cari ci siamo lottiamo eh capirai vede il cazzo lo bimbo aspettate che va vicino magari che poi non potete capire c'è sta fotocamera, c'è questa fotocamera, questa webcam ve la descrivo è sopra i due stati di polistirolo in cui racchiudo le lampadine delle lampade qua ai lati, sopra c'è un pacchetto di Pringles di quelle verdi, Sour Scream and Onions e sopra c'è sta la webcam che praticamente sta in procinto di cadere. Comunque cari non è questo l'importante, vado a sollevare il primo strato, chiaramente come ben vedete il polistirolo, questo MSI Dragon Edition è chiaramente il case, ora piano piano vi dico tutto e vi faccio pure capire i componenti, pare che sto aprì il vaso di Pandora. So contento come ragazzino a Natale, come quando il 24 aprì i toni, perché io poi ho avuto peraltro sotto questo punto di vista una cosa traumatica, poi la spiego, se riesco a capire come si apre la spiego ancora meglio. Oh madonna signore, allora praticamente la mia cosa traumatica, nel frattempo non lo potete vedere, io non voglio girare la webcam perché sennò c'è il tremolino. Da ragazzino io pensavo che Babbo Natale, visto che comunque era una persona sola e doveva favorire tutto il mondo, tutti i ragazzini, non è che ci avesse tanti soldi, non è mica la banca d'Europa. E quindi quando ho capito che Babbo Natale non esisteva, io ero tutto contento, perché lì ho capito che a mia madre, non è chiaramente la banca d'Europa, però poteva permettersi qualche euro in più del Babbo Natale. Vabbè insomma lasciamo stare qui, è la mia pazzia cerebrale, ora lo sollevo e ve lo faccio vedere, se non lo rompo chiaramente. Eccolo qua cari, allora per me è seriamente difficile farvelo vedere, perché il tavolo, perché non se vuol chiama questa una scrivania, è veramente piccolo cari, quindi in questa parte c'ho il mio portatile. E questa è una bestia, nel senso che mi occupa solamente lui metà scrivania, anche se questa è metà tavolo di legno. E quindi cari, già intravedete il dragone cattivo MSI, questa diciamo è la parte frontale, ora ve lo G, qua c'è chiaramente un altro, è fantastico, il case è veramente ben curato, c'è un altro simbolo dell'MSI. La cosa più importante che è quella che vi faccio vedere adesso è chiaramente il suo interno, perché ora come vedete il case c'ha un vetro che vi fa diciamo scorgere al suo interno. Fatevelo mettere bene sempre, diciamo se non cade si rompe tutto e... arrivo. Carissimi, ed eccolo qua, allora mi scuso prima di tutto per la lampada che si rinfrange sullo specchio, però capite bene la mia casa è una spelocca, è da buia, quindi lì deve stare altrimenti non si vedrebbe un cazzo cari. Cosa importantissima e fondamentale, devo cari ringraziare di cuore per il lavoro, la professionalità e comunque cari anche ai tempi il negozio che ha partorito questa bestia cari. Negozio con cui da oggi io collaboro direttamente, vi metto chiaramente cari il link in descrizione del negozio, il link di Facebook che potete andare a visitare. Se siete appassionati di gaming cari andate a vedere la pagina di Facebook e come invece rimanete male, perché le certe cose veramente particolari. Link cari che servirà chiaramente se vorrete comprare un qualcosa di personalizzato in uno fondamentalmente dei negozi migliori in Italia per questo tipo. Chiaramente cari in futuro farò anche delle recensioni e vi proporrò dei pc in base al prezzo e chiaramente cari in base alla potenza e voi potete usufruire dello sconto se mi seguite chiaramente se siete iscritti. Quindi senza iscritto sto un po' come cazzo deve fare caro. Cari partiamo ora subito istantaneamente all'apertura, vedo della carta al suo interno, non so se la avete anche voi, penso di sì, eccola qua. Quindi ora svito sperando che non esca un qualcosa di minaccioso e non di non fa danni, vediamo i pezzi che lo compongono. Ma in teoria sono, fino a là c'è arrivato, sono ingegnere non a caso, non diciamo stronzate. Perfetto cari, ho levato la mascherina, vedete è completamente trasparente e andiamo a vedere il suo interno cari. Oltre all'hardware che vi farò fondamentalmente adesso vedere in qualche modo, faremo poi cari un bel test, c'è una bella partita su PUBG e vediamo cari. Io spero che con questo PC io possa rendere molto, molto, molto più godibili agli occhi chiaramente i video. E anche la velocità di rendering, molti magari non sanno che vuol dire, quando tu editi un video, poi lo devi renderizzare, chiaramente con questa bestia posso renderizzare molto più velocemente. Il che significa, è un lavoro per me, di grosso aiuto, perché posso magari renderizzare un qualcosa e registrare nello stesso momento. Si, terrifica anche, lo so, infatti, però ti volevo far capire, fa niente. Allora, leviamo situazioni. Allora, leviamo carta, via. Leviamo carta, vabbè, eh, carta, carta. Leviamo, indovina un po' carta. E leviamo. Leva carta in modo corretto. Vedete, voi non è che vedete benissimo. Aspettate che la mia faccia ora non sa... Eccolo cazzo! Eccolo cazzo! Si vede? La mia faccia non si è erbana. Allora, cari, sto levando polistirolo al di sotto della scheda video, che come avete potuto vedere è una GeForce GTX MSI 1080 Ti. La sacco di giga di VRAM. Cari, è... Cioè, chiaramente no, insomma, abbiate bene. È uno spettacolo, è veramente uno spettacolo. Non so se riuscite a vederlo tutto. Perdonatemi se muovo un attimo la telecamera. Ecco, vabbè, praticamente vi perdevate l'alimentatore. Eh, signori, è veramente, veramente fico. Ora, chiaramente, andrò ad aprirlo e vediamo un attimo l'effetto che ci farà, insomma, così, all'improvviso a tutti noi. Ficco la spina e vediamo quello che succede. Pertanto, pertanto, non si vede niente. Pertanto non si vede niente. Ora, cari, qualcosa si vede. Io premo il pulsante. Vediamo quello. Su, succede anche a... Perfetto, succede niente. Qualcosa, sicuramente erro. Un po' una manovella interessante, vediamo. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai... Ma... Ma che cazzo stai a dire? Ma lo vedete? Venga, pari... Però no, no, signori. Signori, pare che sei ceso un albero di Natale. È uno silenziosissimo... Sentite? Sentite, sentite, è silenzioso, sentite, cazzo, signori. È fantastico. È veramente, veramente spettacolare. Vi faccio anche vedere il logo del PC Hunter. Ripeto, cari, il negozio che me l'ha chiaramente fatto, assemblato, pezzo per pezzo, cari. Potete chiaramente richiedere ogni singolo pezzo e vi sarà dato. Signori, qua rimane veramente ben poco da fare. L'avete visto nella sua maestosità. Ora, cercherò di metterlo. È una cosa vera. Perché c'è un pippone muovendo a fare. Ok, cari, mentre chiaramente aggiorno, faccio un po' di cose. Perché ora ci andiamo subito a ficcare in una partita di PUBG. Per vedere che... Che succede? Ha cambiato colore, l'avete notato, cazzo? Ha cambiato colore. Ma quanto è la bolletta da luce? Capirai, Mirana, come si diverte. Ha cambiato situazione. Va bene, cari. Vado a farmi un pippone. Ve lo confesso. Ve lo ammetto, non me ne vergogno. Ripeto, aggiorno, installo PUBG. E quello che succede... Cioè, guardate la mia... Allì, B, è bellissimo. È una cosa spettacolare, veramente. Beh, mi organizzo e voi ci vediamo... Secondo dopo, per me invece ci vedremo probabilmente tra una mezz'ora e tre quarti. Perché ora c'ho da fare un po' di cose. Ad adesso, insomma. Allora, cari, finalmente ci siamo. Cazzo, ho fatto un po' di tutto. Ho messo microfono, webcam. La cosa è veramente spettacolare. Ora, cari, stavo. Ho appena scaricato Steam. Ora, aspettate un attimo che... Meno male che c'ho la vibra. Tra tutte le fellenie prendiamo PlayerUnknown'sBattleground. Lo installiamo. Tutto quello che ti pare. Lo mettiamo in C, assolutamente sì. Nel frattempo non vi devo nemmeno che mi sto a fare due biscotti che c'ho una fame della madonna. Allora, cari, ci siamo, cazzo. No, non vedo l'ora. Non vedo l'ora che gioca a PUBG. Che poi, cari, inoltre, aggiungo che... Voi calcolate che sto anche registrando sotto. E peraltro poi sto provando anche a registrare in 2K perché vorrei che venga qualcosa di spettacolare. Non lo so, non l'ho mai fatto. Ci proviamo e vediamo. Allora, ora, cari, banda le ciance. Andiamo a scuola. Perché poi, perché mette il segnalino, visto che sto da solo perché magari mi scordo. Non lo so. Perché voglio veramente, veramente essere significativo. Cioè, voglio fare veramente, veramente male. Quindi quella è la scuola. Ora, stavate attenti, Gaiardi. Perché sta partita vi ho detto o primo o niente. O zero. Capito che posso già immaginare. Guarda lì, guarda che quanti gesti... Guarda quanta gente. Ma io non capisco perché la scuola è così ambito. Tu mi dici, è perché ce l'hai te. Giustamente perché pure io penso sia ambito. Però, come voi ormai notate, saprete. Su questo edificio qua secondario, guarda che non se lo cacchi quasi nessuno. Non capisco il motivo. Alla fine, qualche soddisfazione ve lo dà pure lui. Ora, ho sentito uno che si è praticamente paracautato nei pressi miei. Quindi sta partita potrebbe finire ora che è iniziata. No, non mi sembra. A meno che non è scappato tantissimo sopra. Di solito fanno così, eh. Ok, lo faccio io, cari. Quindi non ci sbagliamo. Ora mi deve dare subito, caro, qualcosa per difendermi da tutta sta gente maledetta. Lei mi dà solamente cose da bere. Che io posso anche gradire fino a una certa, però. Eh, suppressor. Non ce faccio assolutamente niente. Suppresso per la pistola. Caro, mi deve dare qualcosa di veramente significativo. Qua vedo significativi. Qua vedo significativi microusi. Non è malissimo, dai. Poi potrebbe andare peggio. Allora, lo mettiamo automatico. E veramente poi, cari, dovrò bindare tutti i zanti che c'avevo prima, però. Ora chiaramente, cari, è più un test che altro. Ne ho visto uno. Ne ho visto uno, sicuramente. Certo. E faccia la pasta prima kill, caro, dai. Micchia, aveva cose lei, eh. Ah, lei aveva situazioni. Ma lo prendo subito. Io penso che possiamo tranquillamente andare a fare in culo la situazione là e lasciare questo. Occhio, cari, perché qua c'è sempre gente. Cioè, qua non puoi stare tranquillo un secondo che te la mettono un culo da dietro. Sapete a scola com'è, insomma. Però lui mi sa che ha luttato, ha luttato cose cagliare. Ora, cari, chiaramente... Ok, l'ho visto. Sì, affiacci fuori, caro. Non faccia... Non faccia il timido che l'ho visto. L'ho visto, li vedo e li sento. Eh, ma lei non muore, però. Perché ho messo burst, poi, io? Questo bisognerebbe pure capirlo. E vai, caro, ma come cazzo fai? Cioè, come puoi? Io ho messo burst e ho sbagliato, è chiaro. Ma perché lei si è affacciato? Si è voluto morto. Nel frattempo stanno succedendo un sacco di catastrofi nella scuola. Quanto mi piace andare a scuola, non potete capirlo. Ok, chiaramente non c'ho l'arma adatta per fare qualcosa di questo tipo. Aspettate che mi faccia una bevutina perché sto già con un piede nella fossa. Quasi, quasi, in realtà quasi. Ok, io lì non ci voglio mai andare, cari. Io me la ripascio da dietro, tranquillo. Chissà questo che c'aveva di interessante. La padella è interessante. 5,56. Sento, eh. Mi sento tantissimo. Mi sento tantissimi, cari. Che livello di proagine col computer nuovo. Micchia. Vabbè, ero pro già prima. Sono il killer, io mica sono strozzo qualunque. Però, come potete ben notare, nel frattempo me la do a gambe. Anche se secondo me un po' di loot c'era da prendere. Però, insomma, non vorrei rischiammare troppo. Qua. Ho sempre una certa paura a fama 9 di questo tipo. Cari, è inutile. È inutile. È inutile. È inutile. Ma così giocare è molto più facile, cazzo. Senza lag, dai. Ma è una specie di cheat intrinseco questo. Voi capite bene. Cioè, è veramente facile. Cioè, facile. Insomma, rispetto a... Cioè, è come un po' come Goku. Che si allenava nella stanza dello spirito e... E... Dello stronzila. Cioè, è molto più facile, chiaramente. È molto... Chiaramente, abituati al grosso lag. Abituati al grosso lag, per l'appunto, giocare così è molto, molto, molto più semplice. Perché io... Mi fa piacere sta cosa. Non posso negare che mi fa piacere. Ora, cari. Abbiamo fatto abbastanza piazza pulita. Ma secondo me, di stronzi non mancano mai. Ma che ci abbiamo? Niente particolarmente utile. Ci abbiamo tutto. Mi servirebbe un reddott in realtà. Però, vabbè. Diciamo, per ora me posso fai cazzi. Ma è così. Interessante il post-aid. Me lo prendo subito. 9 mm me li prendo subito. Switcho. Guardate anche la velocità con cui faccio le cose. Perché chiaramente, non avendo impallamenti secondari, riesco chiaramente a farlo. Capito, cari? A farlo. Riesco a farlo. Qua non c'è niente. Mi hanno reso tutto questi. Quasi sono ammazzati. Sono culati qua. Io ho ancora la paura brutta che c'è qualcuno, eh. Abbastanza certo di questo. Infatti, ne mancherà probabilmente uno. Uno, due forse. Perché c'erano veramente tanta, tanta gente. Quattro non ci sia io. Molti si sono ammazzati da soli. Vorrei tanto dire che abbiamo vinto, che siamo i padroni della scuola. Però, insomma, magari non è proprio sicura sta cosa qua. Che c'è niente, chiaramente. Quindi, questo è un povero strozzo che appena nato lo hanno asfaltato. Bene, 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 bene. Ma, magari con la convinzione che sono incazzati neri, cioè che la scuola è stata presa, io penso che possiamo tranquillamente mobilitarci. Cioè, praticamente, levarci da sta cosa. E andrei anche io, andrei anche in questa zona qua davanti. Però voi capite quanto è pericolosa. Ma, visto che ormai, diciamo, stiamo un ballo e stiamo in rush più assoluto. Io, ecco, appunto. Io non ci andrei. Mi sparavano probabilmente da 120. Penso. Ora, magari andiamo subito. Purtroppo senza ridotto non è che sia facilissima la cosa, eh. Cioè, potrebbe essere un problema senza ridotto. A meno che non mi sparavano dalla scuola. E che sarebbe simpatico. Però nessuno. Ecco. Ecco. Mi stanno a sparare tantissimo. 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 Infatti mi vado dentro. E mi curo. Di conseguenza. Non ho idea di dove lui possa essere. E che capite bene, è abbastanza spiacevole. Senti, mi devo andare, dai. Basta stare intanati come topi. Ok, cari. Io me ne vado dalla parte praticamente opposta. Cioè, a meno che non stava nella scuola. Non si è proprio capito. Non ho idea. Poi stai continuando a sparare. Quindi vuol dire che là c'è gente. C'è vita. Quindi. Meglio passi i cazzi nostri e andassene via. Stiamo nella safe? Assolutamente sì. Quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Penso che dalle prossime partite giochi in prima persona, cari. Che è molto molto meglio. Meno camper. Insomma. È più carino. E niente. Io aggredirei sto posto. Ma poco selvaggemente. Forte delle mie quattro kill. Meno, ne facciamo tante quante. Ve l'ho detto che finiamo primi. Ve l'ho detto. Ve lo ripeto. No. Mi sa che finiamo primi, cari. Che me... Mi... Io caro di Dio! Dove cazzo sei? Figlio di puttana. Mi fate i miei colpi in sto gioco. Voi non capite. L'ho visto. L'ho visto. È lì. Lo vedete, eh? Ah, mette in ansia sto gioco. Comunque è impressionante, eh. Seriamente grossa. Macchina? Vabbè, ma tanto... Quella ci sta, eh. Ok. Visto. Te la do qua dentro. Ci vedete, caro? Da predatore mi diventi preda adesso. Forse. Speriamo. Niente, cari. Non si è capito. Non si è capito. Non l'ho capito. Dove... Dove... Dove si è andato? È entrato in quella casa e pare non sia più uscito. Pure è uscito, ma non l'ho visto. Perché... Cioè, infatti, è possibilissimo, eh. Il problema è che adesso la cosa mi mette un po' di agitazione. Perché so che sta qua. Però non lo vedo. E niente, mobilitiamoci. Proviamoci. Non lo so. Non so seriamente. Cioè, cos'è disconnesso? Perché è parecchio strana la cosa. E comunque il problema adesso è che dobbiamo passare in una zona che è caldissima. E noi siamo veramente messi male. Non c'ho una veste. Non c'ho niente. Cioè, munizioni poche. Non ho mirini. Non ho niente. Cioè, solamente un'ignoranza innata in me. Che mi porterà forse poco, poco avanti. Però vabbè. A primo fight, se lo vinciamo, quando lo vengo, possiamo luttare cose che possano aiutare la sopravvivenza. Spero. Spero seriamente. Potete capire quanto mi senta terribilmente scoperto. Ma proprio terribilmente. Peraltro, in fondo, mi pare di averne viste uno. Forse. Non lo so. Magari che mi sbaglio io. Ma non penso di essere messo benissimo, eh. Non penso mai. Anche perché dove cazzo lo me ne vado. Mi serve. Qua mi serve che passi qualcuno e mi dia tutto il loot che c'è a disposizione. Altrimenti. Noi facciamo veramente una figata di merda. Facciamo. Niente, muoviamoci. Muoviamoci anche perché non è che c'è tante, 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 tante alternative. Cioè, li sarà sicuramente luttato. Quindi forse è anche inutile andarci. Ma può essere che c'è nessuno che passa per di qua manco per sbaglio. Così non devo luttare niente. Possiamo tranquillamente, sì come parassiti, prenderci tutto il loot loro. Che delusione. Che cari, qualcuno non l'abbiamo visto. Però in modo. Che faccio? Hittato l'ho hittato ma non è bastato mai. È andato. Ha proprio... Tante, è andato via. Sparito. Ce l'ho pure fatto sgavare quindi questo poco poco se ferma e ci aspetta. Sono cazzi miei. Quindi, bene. Non fottuti. Proviamo ad andare qua. Magari c'è sta qualcosa ancora non luttato. Perché ho veramente bisogno di un mirino. Poi vabbè chiaramente oltammino c'ho bisogno di un sacco d'altra roba. Ora, quello che mi potrebbe salvare al cura è questa mia padella qui. Ci sono particolarmente affezionato. Nel frattempo, cari, nel mentre 22. Quindi ne mancano 22. Con me 21. Andiamo avanti. Tranquilli. Gagliardi. Ignoranti. Come sempre. Che poi mi è andata pure un pochetto resfiga. Perché... Siamo in campi aperti. Nel tempo sento anche che sparano. Siamo nel campi aperti. Quindi si sta chiudendo in maniera... A meno che non voglio andare a pochettino. E me la rischio. Ma forse è meglio di sì. Perché è assoluto rimane qua. Secondo me è assoluto rimane qua. Perché... Cioè senza mirino. Senza niente. Con il naso che mi pizzica. A meno che non mi calla proprio l'airdrop qua davanti. Vabbè, cari. Ormai va andata. Ormai è andata. È andata. Vado. Vado. Vado tantissimo. Vado tantissimo. Il problema è che tantissimi anche andranno. Quindi potrebbe essere, diciamo... Brutta sta cosa. Vediamo se c'è qualcuno che pensa bene di venice. Sicuramente sono tutti più forniti. Cioè sono tutti messi meglio di me. Questo è chiaro. Questo è palese. Ecco. Fatti. Dov'è? Terribile. Sì, ma vedete caro che luti. Non c'ho niente. Vai lutta. Vieni a luttare caro. Vieni, vieni. Ok ma ha visto. È palese. Perché mi sta venendo proprio addosso. Cioè se non mi spostavo era... Cioè l'unica. Era l'unica. E quindi carissimi. Spero realmente che il video... Vi sia piaciuto. Io... Oggi dormirò con il computer. È una cosa veramente spettacolare. Cioè mi aiuterà veramente, veramente tanto cari. Per tutto quello che ho in progetto di fare. Ora. Devo editare sto video. Probabilmente andrò pure a farmi qualche partita. Anche devo essere sincero. Ne ho un po' una mancanza. Nel mentre cari. Un buon proseguo di giornata. Un grosso abbraccio. E bella.